800 operatori che in città si occupano di servizi all'infanzia, riuniti dal comune al centro congressi del Porto Vecchio per l'evento formativo futuro anteriore verso il sistema integrato 06, diretto a chi si occupa dei bambini della fascia tra 0 e 6 anni. L'appuntamento è stato elaborato all'interno del coordinamento pedagogico territoriale che mette insieme tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di elaborare nuove metodologie e nuove strategie che si promettono di assicurare una crescita sana e consapevole dei bimbi che frequentano le scuole. Si tratta di un importante momento formativo che coinvolge tutti i soggetti che operano nel mondo 06 anni, pubblici, privati, statali, comunali. L'obiettivo è quello di trovare un percorso comune che garantisca una crescita sana e consapevole di quelli che a me piace chiamare i piccoli concittadini. L'evento odierno, organizzato in due sessioni, al mattino e al pomeriggio, è il primo di una serie di proposte formative rivolte alle persone che compongono la rete di riferimento educativo della città.